3 sovrascelette paraclisi e spizze diversa sui suoi presenti nel mio luogo ed una cosa ricomita solo di degno ai vittori di vita si vengono i proficati da animati e salva tutti questi buoni altri anime lo che seba qui che è io che è io che è grabati come forti in mezzo a quel discepoli o salvatore e all'ordine trafatti e dunque con noi salva e ci libera i nostri anime che ho in feo e in testo se non la santa nonno che stiamo in piedi nel tuo santo sentoci sentiamo come coloro che stanno in piedi nel cielo o madre di dio tu sei la porta del cielo oggi la porta della misericordia allora questo è quello che ho detto di segola celeste questi tre pezzi si chiama Agbia si chiama questa vedete e la pagina quello che ho detto questi tre pezzi è la pagina 72 ecco si è scritto al resto come ho detto tutta la pagina quella che ho detto quindi sono i tre pezzi ok e poi ci sono le altre pagine quella che è Agbia ok quindi ora provate se vuoi a dire tantissime volte con questa Agbia oppure scrivete se non ce l'avete Agbia e poi ripetete tante volte con con Agbia e poi dicete a memoria ok grazie provate chat grazie a tutti